Aspetta un attimo ATN Super Mario 2005 scrive Mi volete bene? Sì Sì Super Mario io ti voglio bene anche se hai questo nome E rispondete sì Maledetti Comunque vabbè Anche se ti chiami ATN Cercheremo di sopportarlo Questa me la clippate? Cazzo ingoiato Fa malissimo Fa malissimo Fa male fa male Fa male Fa male tio maicchiale Eh sì hai capito Corra corre 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 Non si faccia prendere dei suoi acuti Celebrali Eh sì venga venga Se vuoi Signorina Zoe Possiamo fare una gara Ok Ma? Ok la 3 2 1 Ho vinto io Ha vinto Zoe Mi dispiace Eh vabbè Allora Purtroppo ormai non ha più senso perché tanto è giorno Quindi vabbè Ascolti vengo qua Signore è arrivato l'anti mob Venite accorrete Qui ci sta il tech Vi libera dai mob Prepara circuiti di redstone Al modico prezzo di una sub Che è gratuita con un prime Ok Scusate ma dovevo farlo Non sai che quanto scu Però questo qua ce lo prendiamo Però questi qua ce li prendiamo Però questi qua ce li prendiamo Non ci posso credere Dio cane che culo Madonna Non ci sto credendo Aspetta Non mi riava La struttura L'ho trovati L'ho trovati Che cazzo vuol dire Li ho trovati Ho trovato delle case Li ho trovati Guarda la di live Ho trovato delle case Sì Tua madre Allora Ma che cazzo Per il contest Loro dicono Sì fidati Però è una roba Troppo grossa Da fare Ma effettivamente Se la cavano Eh tutti a studiare In questi giorni Sì ragazzi Da che hanno riaperto Le scuole Ho proprio visto L'attività sul server 40% in meno Almeno Ormai siete tutti Fottuti Che dovete studiare Fare cose Infatti Se notate Non sto neanche insistendo Troppo Con Con le live Facciamo cose Abbastanza tranquille Almeno fino a venerdì Poi la venerdì Si inizia a fare Qualcosa di più figo È raddoppiata L'altro giorno Per me ce la fanno Vedremo 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 questo contest Medievale Cosa ci porterà Non so neanche Quanti iscritti Ci saranno Vabbè ma perché Io ce li ho In base Nella mia chat Sti atn Poi c'è il povero Super Mario Che C'è il povero Super Mario Che è tutto triste Che non può Cambiarsi il nome Cioè ma tu Tu le persone Le inganni Le stai ingannando Tu le persone A dirgli di mettersi A tenere nel nome Ma chi sta ingannando Ma sei scema Guardi che duri Gli stai cose Vedi che bambini Ci credono Ma sei stupida Ma chi sta ingannando Cosa Li sta ingannando Non è vero Perché io le persone Le ho seguite C'è 260 persone Che seguo Se cosa l'ha messo Un giorno dopo Non è colpa mia Se gli arrivano in ritardo Le cose Lei sta ingannando Super Mario Io sono dalla tua parte Eh dalla tua parte Il bello che prima Arriva in chat Mi fanno streamerò Per due mesi Ma questa condanna Ma chi Super Mario Non streamerò Per due mesi Ma che ci posso fare Scusami Perché Ma perché Perché c'è il nome così Capita Rovina la sua immagine Veramente Ma veramente Con il nome No vabbè Ma tu Gli hai totalmente Rovinato la carriera Cioè Gli hai rovinato Vai Sì Bella Bella Sì No Che c'è un progettino Qua Però questo non è mai stato finito Mi so Mi so Sì infatti È così Che era un'idea abbastanza interessante Però Magari non attira molto Molto consenso Tra i cittadini Cinque minuti Wow Ti chiamavano Oh mag Vabbè Ce la puoi fare Sì sì Ma perché non lo proviamo a fare Con le mod che creiamo per i video No 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 Non serve No Non so sicuro No 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 Può passare Può passare il vanilla È già abbastanza complicato Tipo non so Quello del totem della morte No Guarda Quello proprio no No eh No 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 tranquillo Tutto bene Guarda Senterman davanti casa Ti guardo Ti guardo Ti guardo Non puoi fare niente Non puoi fare niente Beh dopo Sara Ti guardo Ti guardo Ti guardo E tu non fai niente Perché sono dentro casa Vuoi quello lì? Eh non c'è niente Quando lo so Sei invisibile Sinceramente Vabbè Ma dai Ma me l'hai ucciso Madonna Marti Guarda Veramente ti flammo Cioè Ci ho messo Un'eternità Per farlo sponare Ma se non sai giocare Questo gioco Non è colpa mia Cioè Ma Ma era tutto Distorto Era tutto Distorto E ho tostito Eccone un altro Oh ma Cos'è Secondo me perché Allora mi fa male il braccio Ok Allora ve lo faccio un po' vedere Mi fa male il braccio Ah non si vede Mi fa male il braccio Raga Non posso muoverlo tanto Ok Non posso muoverlo tanto Quindi sono Ho i movimenti bloccati Ok Ho i movimenti bloccati È per quello Cioè Non ho i movimenti puliti di sempre Tutto qua No ho i movimenti bloccati Allora Grazie.